Lo voglio raccontare anche qui, l'ho raccontata una volta e mia moglie non sarà molto d'accordo ma vorrei raccontarla. Ho fatto un incubo terribile una delle ultime notti, ho sognato che mia moglie mi tradiva e non riuscivo benissimo a capire perché, perché voglio dire dai le cose mi vanno bene, ho pensato ma perché mai dovrebbe succedere? E invece poi ho capito, ho capito la persona con cui mi tradiva mia moglie, cosa aveva in più di me? Un negozio di scarpe e con quello io non potevo assolutamente competere però io le ho scritto una canzone e poi ho avuto la fortuna di essere cantata e resa quindi molto popolare da Tiziano Ferro che è una persona straordinaria, non è semplicemente la star che tutti conoscete, è una persona di un valore umano inestimabile. La sentirete anche presto in radio, chi lo sa, ci tengo molto e quindi questa sera è per te, vale come un numero di scarpe 42, no, 40, questa è per te, si chiama Valore Assoluto. Grazie! 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 Grazie!